Giovedì 11 febbraio in Puglia sono stati registrati 10.372 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.248 nuovi casi positivi. 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia Bat, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 33 decessi, di cui 3 in provincia di Foggia. Sono 44.178 i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia.